Valorizzare il turismo e la propria azienda è uno dei punti cardine sottolineato nell'intervento in diretta su Cilento Channel da Carmine Sant'Angelo, presidente dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Vallo della Lucania, che ha approfondito vari punti del decreto rilancio. Il turismo trova ancora difficoltà nel ripartire perché ci sono incertezze nonostante siano stati redatti tutti i provvedimenti e le linee guida del governo. Esistono molte iniziative per mettere in condizione le aziende turistiche di lavorare e l'obiettivo deve essere di farle ripartire a detto Sant'Angelo. Soprattutto con i contagi prossimi allo zero si può e si deve riprendere la vita normale. C'è bisogno però di una presa di posizione anche dei cittadini che devono pensare che viene prima il turista. Turismo però non vuol dire limitarsi soltanto a luglio e agosto, ma 365 giorni l'anno. Bisogna investire sulle tecnologie e prendere coscienza che anche i nostri prodotti possono essere acquistati sul web con i siti internet. Penso che dovremmo favorire i prodotti locali e di qualità. Esistono sovvenzioni per le aziende che investono nella tecnologia. Anche la piccola impresa può beneficiarne per entrare nel grande mercato e dare posti di lavoro. Con l'emergenza coronavirus le tecnologie sono entrate dalla porta principale e non ne usciranno facilmente. In conclusione il presidente ha parlato del bonus pubblicità che è scaricabile al 50%. Rendere la propria azienda al passo coi tempi e pubblicizzarla è fondamentale e per farlo esistono agevolazioni vantaggiosissime che favoriscono la ripartenza ma anche la crescita.